Nel modulo 3 esploreremo i fondamenti dello storytelling della gamification con particolare attenzione a come usare metodi e strategie per coinvolgere visitatori e comunità locali in modo organico e volto a promuovere un approccio al turismo sostenibile nelle periferie e nelle aree suburbane. Il modulo è organizzato in tre parti e dispone di sei strumenti digitali. Nella prima parte esploreremo l'uso di digital storytelling e gamification, quali strategie di engagement e potrai trovare una selezione di esempi rilevanti. Nella seconda parte esploreremo più in dettaglio cosa sono storytelling e gamification, vedrai come iniziare applicando alcuni suggerimenti e infine avrai la possibilità di provare alcune strategie da solo. Infine, nella terza parte, potrai cimentarti nell'applicazione di tali strategie ad un tour urbano digitale. Troverai una raccolta di sei strumenti digitali pronti all'uso per dare una spinta al tuo storytelling digitale e alle tue strategie di gamification. Attraverso di essi avrai la possibilità di iniziare a creare i tuoi tour urbani digitali su canali diversi e social media, creare caccia al tesoro digitali e coinvolgere comunità digitali e locali. Dopo aver completato il modulo 3, sarai in grado di creare, realizzare ed implementare contenuti appropriati, quasi quali siti tour non convenzionali, attraverso i canali adeguati e nel contempo prenderai confidenza con i concetti di gamification e storytelling, come strumenti e strategie da applicare nella creazione dei contenuti. Apprenderai inoltre come identificare e usare diverse strategie di comunicazione a seconda di ogni specifico target, al fine di realizzare e portare avanti un'esperienza coinvolgente per il pubblico.